Poteva avere conseguenze decisamente più pesanti l'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio all'altezza dell'accesso del tunnel che porta alla Galleria del Virgolo lungo l'Arginale a Bolzano. Il rimorchio di un tir si è schiantato contro il muro in curva. Nel violento impatto la motrice ha proseguito la corsa per alcuni metri mentre il rimorchio si è andato ad incastrare nel muro di cemento che costeggia la carreggiata. Un urto tremendo che ha provocato il ferimento di una persona illeso il camionista. Pesanti disagi al traffico. La polizia municipale giunta sul posto ha bloccato la circolazione per i mezzi diretti a sud. Code e rallentamenti hanno messo in difficoltà la viabilità cittadina per un paio d'ore.